Buonasera Mirko, statistiche post partita, pressoché in equilibrio fra le due squadre, ma un tabellino che dice 2-0 per la Samp. Sì, buonasera, statistiche purtroppo siamo venuti qua, abbiamo perso, però secondo me non dobbiamo fermarcelo al risultato, la squadra secondo me ha fatto anche una buona prestazione, magari sull'episodio oggi è stata anche un po' sfortunata, perché magari se il tiro di Iago dopo due minuti, tre minuti, quanto era passato va dentro, magari la partita prende un'inerzia diversa, però abbiamo cercato di fargli giocare il meno possibile, di pressare alto, di cercare molte volte di andare al cross e secondo me in buona parte ci siamo anche riusciti, poi ovvio dopo questo gol su calcio piazzato ci ha un po' cambiato l'inerzia della partita, abbiamo provato a spingere fino all'ultimo, peccato che non sia arrivato il pareggio, ha fatto due o tre belle parate pugioni, però dobbiamo accettarlo, andare avanti e cercare di preparare la partita con la Juventus da martedì nel migliore modo possibile. Avete già parlato con il tecnico Mijajlovic, analizzando magari a caldo o lo farete in settimana? Lo faremo in settimana penso come facciamo sempre, cerchiamo di capire quello che abbiamo sbagliato, perché quando si perde magari qualcosa non è andato bene e poi cercheremo di lavorare per cercare di migliorare gli errori che abbiamo commesso. Possiamo aspettarci allora nel derby un Toro arrabbiato e voglioso di rivalsa? Il Toro è sempre arrabbiato, secondo me anche oggi il Toro ha fatto come ho detto prima una prestazione a livello di intensità, di aggressività, di alto livello, perché loro che è una squadra che esce sempre col fraseggio da dietro, che trova azioni anche manovrate, di azioni vere e proprie, non è che gliene abbiamo concesse tanti, quindi sicuramente sarà un Toro ancora più arrabbiato perché vuole subito lasciarsi alle spalle questa sconfitta.